Al 5, Volter Gifont, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, al 6, Always e K, Alessandro, goccia d'oro. Ruolo di favorito che viene palleggiato tra Volter Gifont e Always e K. Cavalli che sono già a rete, c'è un fatta per Artico OP che arriva adesso approfittando del numero alla corda. Una macchina che ora di fronte può accelerare per lasciare i concorrenti, si ritrae Always e K. Allo stacco emerge Love You Darling nei confronti di Artico OP con Volter Gifont per linee esterne che va a chiedere strada e ad ottenerla si ingamba Always e K che va in aggiramento su attrazione e si protende subito a largo degli avversari. 400 di corsa che vanno via nell'ordine del 29 per Volter Gifont che conduce davanti ai tribune su I Love You Darling, poi Artico P con a fianco Always e K, quindi l'altra pariglia. Chiudere il gruppo 600 che vanno via nell'ordine del 43 con il P dell'Annunziata che ora cerca di amministrare con Volter Gifont e si giunge così al paletto di metà gara in 58 e mezzo. Si va di fronte ancora a Volter Gifont leader, lenta e progressiva il tentativo di risalita da parte di Always e K e si arriva così al chilometro passato all'ordine dell'1, 12 e mezzo da parte di Volter Gifont con Always e K che si protende ora al suo esterno ma Volter che riallunga mentre alla corda ancora I Love You Darling che cerca di tenere la posizione più indietro a Artico P. si arriva così al completamento della piegata addirittura d'arrivo con Vifiche Stappa, Volter Gifont che ora cerca di vincolarsi da Always e K che però è incisivo al suo esterno e lo vola in un attimo Always e K ha messo in atto una frazione conclusiva molto molto violenta e viene a concludere Always e K che è facile vincitore nei confronti di Artico P che è secondo mentre Volter Gifont deve accontentarsi del terzo posto. Io ho 1,55 e mezzo sul cronometro, siamo nell'ordine dell'1, 11 e 9 per Always e K che se l'è fatta di fuori dal primo all'ultimo metro e negli ultimi 250 metri di corsa ha acceso il turbo ed è venuto ad avere la meglio nei confronti degli avversari. Cala nel finale Volter Gifont che viene sopravvanzato anche da Artico P che così finisce al secondo posto mentre rimane terzo punto Volter Gifont a precedere a trazione. 6 per il primo, 1 per il secondo, 5 per il terzo, l'ordine di arrivo di questa settima dalle Capanelle. Grazie per la visione!